Il Partito Socialista ha avuto il merito di identificare le piaghe dell'Italia e di essere l'unico partito a dare una spinta di fiducia e di credo nell'essere italiani e nel cittadino italiano. Sì, il Partito Socialista è stato il partito della fiducia e della immagine della nazione Italia, questo per merito anche di Pertini. C'è un motivo storico in questo. La cultura cattolica e la cultura comunista, tradizionalmente, non sono state improntate all'ottimismo e neanche alla fiducia nella dignità nazionale, perché sono tradizioni queste che vedono nel mondo moderno, nel mondo del libero mercato e occidentale, non un bene ma un possibile male e sono culture che non hanno senso dello Stato perché l'una ha senso della Chiesa e l'altra ha senso del Partito.